ma che ma che tennis che cos'è sinceramente non amo molto commentare lo faccio perché chiaramente è del dominio pubblico a casa del southampton il leicester vince 9 a 0 è del dominio pubblico per cui uno un'occhiata gliela da e due parole le dice ma obiettivamente non è una partita di calcio tennis non lo so non trovo grande soddisfazione nel commentare una cosa del genere anche perché spesso manco in allenamento finiscono 9 a 0 le partite magari è meglio commentare uno 0 a 0 veramente uno 0 a 0 o un 1 a 0 tirato come potete ieri sera a Verona Sassuolo dove comunque entrambe le squadre hanno creato occasioni dove comunque magari fai più attenzione che ti posso dire a come una squadra porta il pressing a come un'altra squadra l'assetto difensivo le marcature c'è chi ama il calcio nello specifico ama pure queste cose qua questi dettagli lì che ogni scena rangò 5 gol al primo tempo 4 gol al secondo andiamo a legge i marcatori che in pratica prima mette in mezzo una palla e battuta a portiere vi torna sempre lui c'è le marcature dove cazzo stanno le marcature gente completamente dimenticata tielemans doppietta di peres gol di gemi vardi chiaramente da da gran centro avanti c'è valla dentro l'area si distriga si libera e la spara sotto la traversa ancora peres quindi tripletta ancora vardi di testa quello lì da solo da solo da solissimo voglio dire ma tu vedete come sanguina davanti allo squadro c'è gemi vardi tu cazzo sta solo di testa la posizione dei medi sono molto bella un'altra cosa di parti quindi due triplette spero di che cazzo stanno a parlare ci volevo parlare non lo so Southampton voglio vedere un attimo la classifica perché c'è una squadra che è vero che pioveva tutto quello che vuole perché magari ha piovuto proprio dall'inizio alla fine e quindi pioggia di gol ci sta curioso vedendo sta Southampton come classifica vabbè terzo ultimo otto punti massa Watford proprio ai piedi di dio Norwich era partito tanto bene con Temo Pucchi niente eh vabbè ragazzi ma questo è quanto questo è il calcio inglese bello per tante situazioni se gioca a viso aperto però insomma 9 a 0 c'è veramente in riguardoso ma pure che te posso dire tu Lester fa un po' meno già quando stai sul 6 a 0 che cazzo te frega devi fiori così insomma non non è molto sportiva come situazione poi vabbè ma è via via con una buona domenica vediamo chi ci seguiamo oggi dai vediamo oggi chi cazzo c'è allora oggi oggi in Serie A abbiamo Lecce Juve alle 15 Inter Parma Alla Lecce Juve non mi interessa Inter Parma alle 18 non credo proprio visto che c'è il derby Livorno Pisa e Genoa Brescia sto a mangiare riccamente la carne stasera per cui chi se ne frega poi Serie B Cosenza Chievo bella partita Crotone Venezia Pescara Benevento cazzo tutte le 15 Saternitana Perugia mi interessa pure Livorno Pisa Serie 18 e vediamo un po' a Serie C no Serie D pure ma che gioca oggi a Serie D aspetta ok C1 A vabbè quella poi Palermo c'è domani a posto e niente più o meno ecco queste sono le situazioni penso che sicuramente mi vedo di Corno Pisa non me la leva nessuno anche se poi il commento lo avrete domani perché poi vado a cena fuori sai quando si mangia si beve poi non c'è mai un orario non penso che riesco a farvelo stasera quindi sicuramente domani avrete domani mattina avrete l'iorno Pisa poi domani pomeriggio sono allo Stavio Olimpico ai 18 per Roma Milan quindi domani sarà tutto dedicato alla Roma più o meno e niente comunque avrete do una bella occhiata pure a tutta la Serie B insomma ecco un saluto e sempre caccio faccio due